Controlli a raffica da parte delle fiamme gialle sull'intero territorio provinciale aretino, un'attività incentrata principalmente alla verifica del rispetto delle disposizioni anti-covid-19. Oltre 100 le persone che negli ultimi giorni sono state fermate, i finanzieri hanno verificato le reali motivazioni degli spostamenti, alcune risultate ingiustificate e sono così fioccate le multe, in alcuni casi anche particolarmente salate. La compagnia di San Giovanni Valdarno ha infatti sorpreso quattro persone, risultate anche recidive, nei pressi della stazione ferroviaria di Montevarchi provenienti da una provincia emiliana. Sempre in Valdarno è stato denunciato un soggetto trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. I finanzieri infine per le vie di Montevarchi hanno fermato un trentenne in sella al suo ciclo motore con l'assicurazione scaduta, ma non solo, i militari dopo attente verifiche hanno anche scoperto che il giovane aveva la patente di guida sospesa. Per tutti sono scattate le contestazioni per inosservanza delle misure anti-covid-19. Il conto più salato sarà per i recidivi che dovranno pagare una sanzione raddoppiata da un minimo di 800 ad un massimo di 6.000 euro.